Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV quest'oggi faremo il cielo mi manca di questo album della Roma 2018-2019 con l'ufficiale abbiamo trovato la numero 2 che va a chiudere questa parte di scudetto anche la numero 4 quindi questa parte qui che è quella forse più bella di questo album questo grande scudetto alla pagina iniziale l'abbiamo concluso ecco qui e questo è finito poi abbiamo la numero 7 di figurina che ce l'abbiamo quindi doppione la numero 12 che invece è Olsen che ci manca poi abbiamo la 15 e Car Stop l'altra mancante poi abbiamo Manolas col 23 che invece è doppione e la 35 che è Chic, altro doppione poi abbiamo trovato la numero 43 che è di Francesco poi abbiamo la numero 49 che è Olsen questa mi manca di Olsen poi abbiamo la numero 58 che è Fusato terzo portiere della Roma e anche questa è un'altra mancante poi abbiamo la 71 che è Pellegrini che mi manca la 85 eccola qua sopra mi manca anche questa che è Marcano poi abbiamo la 91 che invece è Santon che va qui sotto abbiamo la 102 Manolas ce l'ho questa di Manolas quindi è un doppione poi la 131 quindi Cristante, Pellegrini abbiamo trovato nessuno De Rossi, Cioric, niente abbiamo trovato Zaniolo che mi manca qui 131 quindi la pagina di Zaniolo è quasi finita Florenzi ce l'ho la 135 di Florenzi poi 151 invece Diego Perotti e ce l'ho anche questa a doppione la 152 di Ingeco ce l'ho la 159 Under ce l'ho la 164 invece che è chic mi manca e la 169 è una figurina di Justin Klyvert e questa mi manca poi abbiamo la 170 sempre Klyvert altra mancante poi c'è la 176 che è il Sharawi che mi manca qui in basso a destra e poi abbiamo trovato la 178 che mi manca che è qui è la figurina 1983 Roma Avellino 2 a 0 poi abbiamo la 184 che ce l'ho che è quella relativa alla primavera della Roma poi abbiamo la 188 che ce l'ho e la 189 che è quella subito dopo che ce l'ho adesso manca soltanto andare a vedere le card perché ho la L1 che mi manca in cui c'è El Sharawi che festeggia poi ho trovato la L6 ce l'ho che è quella di Manolas e L7 e invece è quella di Golarov che mi manca e più abbiamo anche l8 che invece è ed in gioco altra mancante che ci fa così quasi concludere questa pagina finale con queste figurine speciali ecco qua ragazzi con questo video di cello mi manca della roma è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti